Ciao, sono Adri, benvenuto a casa mia. In questo video ti spiegherò come scegliere il vino giusto per ogni occasione. La regola fondamentale per scegliere il vino giusto in ogni occasione è quella di andare increscendo. Quando sei al ristorante oppure a cena con gli amici, ricordati che non bisogna mai partire con un vino di grandissima struttura. Bisogna sempre partire con un vino che abbia una struttura lieve, leggera, non un vino importante. Ti faccio un esempio. Se inizi, sin dall'aperitivo o dal primo piatto, a degustare un amarone, un grande barolo, un barbaresco, dovrai andare increscendo e quindi degustare un amarone o un barolo di un'annata più importante, che sia più invecchiato, più strutturato. Questo perché le nostre pille gustative si saturano immediatamente. Quindi se tu retrocedi con un vino, per esempio un Abbiolo delle Langhe, dopo aver bevuto un grande barolo, non avrai la stessa freschezza, la stessa piacevolezza gustativa. Nel link qui sotto potrai avere accesso direttamente al corso che ho preparato per te. A presto e buona degustazione!